Oh, questo è Gramitto. Sangue e freddo, calma, calma. Vado. Sì, pronto? Buongiorno, signor Modugno. Sono la segretaria del dottor Gramitto. Carissima, come sta? Salve. Mi dica. Lui sta venendo a Roma e vorrebbe vederla domani alle 10 da Rosati. Certamente. Ah, cortesemente, senta, non ha lasciato detto niente per me? Nulla? No, solo questo. Grazie, molto gentile, eh? Buongiorno. Beh, che ha detto? Gramitto, domani mattina ci vuole vedere. È buono, Mimmo, questo è buono. Ma ci sta a dici, Franco, che buono. Se erano buone notizie ci avrebbe chiamato lui direttamente, no? Non hai alla colonna greca.